Meditazione. Guarigione. Settimo chakra. Trova una posizione comoda e rilassati. Chiudi gli occhi e porta tutta la tua attenzione al respiro, calmo, ritmico e sempre più profondo. Percepisci tutto il corpo che ad ogni espiro si rilassa sempre più profondamente. Percepisci per qualche istante la sensazione dell'aria fresca che entra dalle narici ed esce tiepida. Nota come questa semplice percezione ti faccia sentire calmo e rilassato. Ora concentra la tua attenzione per fissare il tuo obiettivo, connetterti con il tutto. Senti forte la volontà di sviluppare questa connessione. Senza fretta, con i tuoi tempi, concentrati ora sul colore bianco dorato. Per fare questo, immagina un cielo limpidissimo, senza nuvole, nel quale brilla un sole bianco trasparente. Ti senti totalmente pervaso dall'energia e dal calore di questa luce bianco dorata che arriva a te attraverso delle onde, come solo il sole sa fare. Tutta questa meravigliosa energia senti che viene percepita dal chakra della corona. Mentre benefici di questa energia, calda e rigenerante, immagina delle radici che fioriscono dalle piante dei tuoi piedi. Lasciale affondare nel terreno, fino al centro della terra. Ad ogni ispirazione, lascia andare tutte le tue energie di scarto, le tue paure e qualunque negatività senti di dover lasciare andare. Tutto quello che lascia andare scorre fino al centro della terra, dove viene sepolto e trasformato, come solo madre terra sa fare. Tutta questa energia trasformata ritorna a te e pervade il tuo corpo, permeandolo in ogni sua cellula. Questo atto produce una profonda guarigione a tutti i livelli. Con ogni ispirazione, immetti questa nuova energia. E questo ti fa sentire nutrito e profondamente amato dall'esistenza, che ti nutre e si prende cura di te, offrendoti tutto ciò che ti serve. Respiri tranquillità, pace, rinnovamento. Ti senti grato per ciò che hai ed esprimi questa gratitudine dal profondo del tuo cuore. Ti senti grato per il tuo corpo, per la tua anima, il tuo spirito e la tua mente, per tutto ciò che hai. E nell'esperire questa gratitudine, auguri a te stesso il meglio. Ora sei connesso, tramite la testa, con il sole bianco invisibile, attraverso i piedi, sei connesso con il centro della Terra. Lascia che questa sensazione attraversi tutto il tuo corpo, dal cielo fino al centro della Terra, dal centro della Terra fino al cielo. Immagina di percepire tutto attorno a te. Un'energia che è la stessa che abbraccia tutti gli esseri viventi. È la stessa energia che nutre chiunque ne sia connesso. Questa energia porta sollievo a tutti i tuoi chakra, guarisce ed equilibra il tuo cuore fino ad esprimere tutta la sua potenza attraverso il chakra della corona. La tua capacità di percezione è ora più raffinata e percepisci chiaramente i tre livelli di energia. Il potere di energia, il potere di madre eterna, il potere del cuore e l'energia del cielo. Lascia arrivare le informazioni di cui hai bisogno, che possono essere immagini, percezioni, suoni. A volte le risposte non sono immediate, bensì si manifestano attraverso eventi o sincronicità. A volte le risposte non sono immediate, bensì si manifestano attraverso il chakra. Prima di tornare nel qui e ora, prenditi il tempo di ripetere dopo di me le seguenti affermazioni. Sono consapevole che alla fine va tutto bene. Tutto avviene esattamente come deve avvenire. Tutto ciò di cui ho bisogno trova il modo per arrivare a me. Attraggono le situazioni più adatte alla mia crescita. Sono consapevole che tutto è perfetto così com'è e questa consapevolezza mi fa provare un'immensa gioia e amore. Siamo tutti parte della creazione e del suo disegno divino. Prenditi tutto il tempo che desideri per stare rilassato prima di riaprire gli occhi. Prenditi tutto il tempo. Prenditi tutto il tempo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.